Il 2 ottobre il portone del comune di Amatrice avrà sopraffisso il cartello chiuso per tagli ed è il nostro modo per dire che i piccoli comuni non sono più in grado di garantire servizi spesso essenziali per i cittadini così il sindaco Sergio Pirozzi I trasferimenti finanziari dello Stato soggiacciano a condizioni illogiche, ha proseguito il sindaco Il fabbisogno standard dei comuni viene confuso con quello storico e così chi ha più speso in passato oggi riceve di più mentre quelle amministrazioni che sono state oculate ed attente alla spesa oggi sono le più penalizzate e Amatrice è infatti uno dei tantissimi comuni che aderiscono all'iniziativa promossa dall'Associazione Nazionale Piccoli Comuni e dall'Associazione Nazionale dei Comuni Dimenticati di cui Sergio Pirozzi è presidente Si tratta di un'iniziativa simbolica perché i dipendenti comunali saranno comunque al lavoro per garantire tutti i servizi ma la massiccia adesione di così tanti primi cittadini la rende davvero molto significativa